Benvenuti al nostro ultimo appuntamento delle pillole di Shasha, la nostra rassegna sul cinema, su film tratti dai romanzi di Shasha. C'eravamo lasciati la volta scorsa con la rappresentazione grottesca del potere partitocratico che nel bel mezzo di un ritiro per i cosiddetti esercizi spirituali paradossalmente mette in scena la propria violenza e auto elimina i personaggi più in vista. Così in todo modo il narratore riflette dopo un vivace scambio di battute con il commissario. Per la verità da anni non mi avveniva di pensare che ci fosse da mietere, da decapitare e che un simile pensiero o vagheggiamento in me spento tanto rigogliosamente germogliasse in un commissario di polizia, anche se celato, non avrei creduto. Ma tante cose avevo perso di vista, di tanti mutamenti non mi ero accorto, di tante novità e non soltanto io. Anche la gente che incontravo ogni giorno era nella mia stessa condizione. Ministri, deputati, professori, artisti, finanzieri, industriali, quella che si suole chiamare la classe dirigente. E cosa dirigeva in concreto effettivamente? Una ragnatela nel vuoto, la propria, l'abile ragnatela, anche se di fili d'oro. Così Leonardo Sciascia in todo modo. Ecco, se avete letto il libro e avete visto il film, vedrete questa ragnatela di fili d'oro. Tuttavia pur sempre una ragnatela, la stessa ragnatela del potere, dischiosa, appiccicosa, in cui si impiglia il sospetto del protagonista del romanzo di cui parleremo oggi. Il romanzo di cui parleremo oggi è una storia semplice ed è uno degli ultimi romanzi di Sciascia. Un libro piccolino, esile, un piccolo libriccino, che inizia con una citazione tratta da un romanzo di Durrenmat intitolato Giustizia. Un romanzo in realtà sulla impossibilità della giustizia. E l'esergo è questo. Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia. Ecco, quindi vediamo sempre questa istanza così di giustizia, di ricerca della giustizia di Sciascia. Torna al genere poliziesco, ma come in ogni giallo che si rispetti, le cose sono tutt'altro che semplici e ciò che il titolo dichiara è assolutamente negato dalla trama, seppur breve, di questo piccolo romanzo. Il romanzo inizia quindi con una telefonata, una telefonata di Giorgio Rocella, un ex diplomatico tornato da poco in Sicilia da Edimburgo, che informa la polizia di aver trovato una cosa. Alla telefonata non viene dato credito, ma questo fatto incuriosisce non tanto per la telefonata, ma per il fatto che un diplomatico sia tornato in Sicilia dopo così tanti anni. In ogni caso, il giorno successivo il brigadiere Antonio Lagandara con una pattuglia si recca al villino di Rocella, pensando di fare una gita al posto di una perlustrazione. I tre rimangono sorpresi, da una finestra vedono l'ex diplomatico accasciato sulla sua scrivania. Rompono il vetro, entrano e scoprono che è morto per un colpo di pistola in testa. Non toccano nulla della scena del reato e il manda subito a chiamare la scientifica. Durante l'attesa però si mette subito all'opera, cercando qualche indizio utile. Sulla scrivania c'è un foglio con scritto «ho trovato». L'ipotesi del suicidio gli appare da subito impossibile. La mano destra del morto avrebbe dovuto penzolare, invece sta sulla scrivania a fermare il foglio. Il punto dopo «ho trovato», la penna stilografica chiusa, in cucina mozziconi di sigarette nei portaceneri, fondi di vino in cinque bicchieri. Il brigadiere continua la sua perlustrazione e trova una scala stretta e buia che sale in cucina. Non trova l'interruttore, sale al buio e si ritrova in un solaio pieno di oggetti abbandonati. Il professor Carmelo Franzò, vecchio amico della vittima, racconta alla polizia che Rocella gli aveva chiesto di accompagnarlo alla villa per recuperare da una cassa panca delle vecchie lettere di Pirandello. Purtroppo lui non aveva potuto quel giorno e il giorno dopo la radio aveva sentito la notizia della morte dell'amico. Gli aveva anche telefonato ed espresso sorpresa per aver trovato la linea telefonica ed aver trovato il quadro. Il giallo si infittisce con un cambio di scena. Siamo in una zona isolata, c'è un treno locale in ritardo, il capo stazione e il manovale vengono trovati ammazzati, un rappresentante di medicinali alla guida di una Volvo viene coinvolto suo malgrado. Tutt'altro che semplice, la storia diventa sempre più complicata e un solo dettaglio l'interruttore della luce farà cogliere al brigadiere l'amara verità. Ma avrà la forza e il coraggio di denunciare il colpevole? E l'uomo della Volvo che nelle ultime pagine scagionato riconosce il finto capostazione avrà il coraggio di rifienire l'informazione alla polizia? Ecco queste domande sono le domande lasciate aperte da questo romanzo. Nel finale il rappresentante dice e che vado di nuovo a cacciarmi in un guaio? E più grosso ancora? Riprese cantando la strada verso casa. Quindi l'omertà, l'incapacità di reagire, l'indifferenza agiscono in ognuno di noi. Il male è una scelta individuale e anche una scelta collettiva. Il potere e le istituzioni sono coinvolte ma ognuno di noi ha la propria responsabilità, sembra volerci dire Shasha. Se è vero che il potere risiede sempre altrove è anche vero che la società è formata dai nostri comportamenti individuali e Shasha sembra voler dire che solo agendo sui singoli comportamenti potremmo sconfiggere la logica della mafia che oramai pervade ogni settore. Insomma forse queste le possibilità che restano ancora alla giustizia come aveva riportato appunto nell'esergo all'inizio di questo agile ma denso libretto. Siamo giunti quindi alla fine di questa nostra rassegna di film. Questa rassegna ci ha permesso di ricostruire appunto un'immagine dell'Italia e della Sicilia di quegli anni e ci ha permesso di ritrovare grandi musicisti, Bacalof, Ennio Morricone, grandi registi e grandi attori per esempio Gian Maria Volontè, Franco Nero, Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Maria Angela Melato, Ciccio Ingrassia, Ennio Fantastichini e Massimo D'Apporto. Insomma tutti diciamo grandi personaggi della storia del cinema italiano e oggi quindi parleremo del film Una storia semplice di Emidio Greco. Emidio Greco assiste nel 1971 Roberto Rossellini durante la lavorazione di intervista a Salvatore Allende, La forza e la ragione. Nel 74 il primo film da regista, L'invenzione di Morel, ispirato a un romanzo fantastico di Adolfo Doi Casares, di cui cura anche la sceneggiatura. Nel 78 gira Niente da vedere, Niente da nascondere, un documentario sull'opera di un artista, Lighiero Boetti. Nell'82 dirige Eringard, che non sarà mai distribuito per il prematuro fallimento della casa di produzione, anche questo ispirato ad un'opera di un artista, Isaac Dinesen. Dopo aver lavorato alla produzione televisiva, Un caso di incoscienza e al documentario L'arte e la società, nel 91 dirige appunto una storia semplice tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia. Ma non sarà l'unico romanzo di Sciascia. Questo film viene presentato al Festival di Venezia e vince Il nastro d'argento e ottiene un ottimo successo di critica. Nel 2002 appunto filma un altro romanzo di Sciascia, cioè Il consiglio d'Egitto, con Silvio Orlando, che narra la vicenda dell'abate e falsario settecentesco Giuseppe Vella. Allora, il film come sempre, come dire, inizia in modo diverso rispetto al romanzo. Nella migliore tradizione sciasciana appunto le trame si complicano e ciò che parevano essere non è. Il romanzo inizia con questa telefonata, invece il film inizia sul traghetto per la Sicilia dove si incontrano due uomini, l'anziano professor Franzò, interpretato da Gian Maria Volontè, e un signore veronese rappresentante di case farmaceutiche. Molto bello questo dialogo iniziale in cui così molto enigmaticamente, il professore dice laggiù, laggiù, voi non la vedete, ma laggiù c'è la Sicilia, anche se non c'è. Quindi già questo enigma di che cosa sia la Sicilia. Quella sera stessa il commissario, l'indimenticabile Ennio Fantastichini, riceve una telefonata dal signor Roccella, un diplomatico in pensione, che invita il poliziotti alla sua villa per mostrare loro qualcosa. Il brigadiere, interpretato da Ricky Tognanzi, vorrebbe andare subito, ma il commissario lo dissuade, ipotizzandosi tratti di uno scherzo. Il giorno dopo il brigadiere trova il cadavere del diplomatico riverso su un tavolo nella villa, per terra un'arma, di fronte a lui l'enigmatica scritta ho trovato, giungono sul posto anche il questore, il colonnello, e subito deducano che si tratti di un suicidio. Il commissario dice è un caso semplice. Il brigadiere però non è convinto, sia a causa dello strano messaggio lasciato dalla vittima, sia per altri indizi. Roccella aveva infatti scoperto che durante la sua assenza qualcuno aveva installato una linea telefonica a sua insaputa e aveva trovato in solaio un famoso quadro scomparso anni prima. Nel frattempo il rappresentante si imbatte in un gruppo di viaggiatori di un treno, bloccato in campagna da un semaforo rosso. Il capotreno lo invita ad andare alla stazione a vedere che succede. Dopo una lunga attesa il capotreno, spazientito, raggiunge a piedi la stazione dove aveva mandato il rappresentante e trova il capo stazione e il manovale assassinati. Che cosa sarà successo? Che cosa lega i due episodi? Dietro a questa storia, tutt'altro che semplice, trapelano alcuni tratti tipici della sicilianità letteraria. L'omertà, la paura, la vittoria dei più furbi nella lotta eterna tra le forze del male e quelle del bene, tra l'illegalità e la giustizia. Anche se i confini tra i due mondi non sono mai così netti. Ecco, per concludere mi piacerebbe così lasciarci con le parole di Shasha, le parole di Shasha diciamo narratore e le parole di Shasha diciamo così deputato. E allora nella storia semplice c'è questo dialogo tra il vecchio professore e il magistrato. Con quale piacere la rivedo dopo tanti anni, tanti e mi pesano, convenne il professore. Ma che dice, lei non è mutato per nulla nell'aspetto. Lei sì, disse il professore con la solita franchezza. Questo maledetto lavoro, ma perché mi dà del lei? Come allora, disse il professore. Ma ormai? No. Ma si ricorda di me? Certo che mi ricordo. Posso permettermi di farle una domanda? Poi gliene farò altre di altra natura. Ma nei componimenti di italiano lei mi assegnava sempre un tre perché copiavo. Ma una volta mi ha dato un cinque. Perché? Perché aveva copiato da un autore più intelligente. Il magistrato scoppiò a ridere. Eh, l'italiano. Ero piuttosto debole in italiano. Ma come vede non è stato poi un gran guaio. Sono qui, procuratore della Repubblica. L'italiano non è l'italiano, è il ragionare, disse il professore. Con meno italiano lei sarebbe ancora forse più in alto. La pena tagliente di Sciascia dice più di mille spiegazioni. E vediamo le parole di Sciascia deputato. In un discorso al Parlamento Sciascia si esprime così. In Italia basta che si cerchi la verità perché si venga accusati di convergere col terrorismo nero, rosso o con la mafia, con la P2 o con qualsiasi altra cosa. Come cittadino e come scrittore posso anche subire una simile accusa, ma come deputato non l'accetto. Non si converge assolutamente con il terrorismo quando si agita il problema della tortura. La sola volta che ho incontrato Sartre è stato dopo il suicidio o l'assassinio di alcuni terroristi nella prigione tedesca. Il riferimento è a Andreas Badere e Ulrike Meinhof che appunto incarcerati secondo la versione ufficiale si sono suicidati, membri della RAF. Sartre disse una cosa che mi ha impressionato molto e che me lo ha fatto rispettare ed ammirare di più di quanto non lo ammirassi e lo rispettassi già, che non faceva nulla perché aveva dei dubbi. Ecco, noi non siamo venuti qui ed almeno io personalmente con delle certezze, ma con dei dubbi. Così Leonardo Sciascia deputato il 23 marzo del 1982. Quindi non certezze ma dubbi e l'esercizio del dubbio. Ecco allora per chiudere la nostra rassegna, ma non la nostra curiosità e il nostro invito a continuare a leggere Sciascia, a continuare a esercitare l'aritmetica del dubbio che ci fa somigliare ai suoi tanto amati illuministi. Questa è stata la nostra terapia in attesa di incontrarci di persona e condividere di nuovo con voi il piacere del cinema italiano d'autore. Buona visione e arrivederci a presto. Grazie.